Allora, in questo periodo, a parte appunto seguire le live dove riesco e a fare un po' di corsi, perché ovviamente penso sia importante questo aspetto qua, allora sto prendendomi, diciamo, a pari, più o meno a pari, con tutta la post-produzione che dobbiamo fare, perché comunque abbiamo i matrimoni ancora da finire, e quindi stiamo cercando di arrivare in pari con tutta la post-produzione e l'impaginazione degli album, in modo tale che quando riparte la stagione siamo più tranquilli, siamo in pari e quindi siamo anche più rilassati, tra virgolette, perché comunque, insomma, quando è un cumulo di lavoro, comunque ci pensi. E dal punto di vista dei social, allora sto, beh, pubblico costantemente ogni giorno una o due foto, sempre, che siano di matrimonio, di trash the dress, insomma, servizio engagement, eccetera, comunque è un'attività che faccio costantemente, a volte mi capita di saltare una giornata, però, insomma, in maniera di massima pubblico ogni giorno, e sto cercando di modificare tutta la bio, cioè le storie in evidenza su Instagram, con una grafica, diciamo, unica per tutte le storie, cioè per tutte le storie in evidenza, perché penso sia, insomma, anche più bella da vedere, e sto preparando tutte delle storie di, sia di trash the dress, sia di matrimoni, da pubblicare nei prossimi giorni, quindi tutte storie create con Canva, insomma, metto lì, cerco di costruire la storia, per poi riuscire a pubblicare tutto, anche perché, questa è una cosa particolare, mi ha chiamato una sposa ieri, no, l'altro ieri su Whatsapp, con il prefisso più 44, che ho detto, più 44 è Rai Unito, gli mando un Whatsapp, perché lei mi chiedeva disponibilità per fine agosto, di venerdì, tra l'altro, fortunatamente, e ho detto da Rai Unito, boh, vabbè, e ci siamo sentiti ieri su, abbiamo fatto una videochiamata, e mi ha detto, guarda Marco, io sono in ballo con due fotografi, cioè ho già sentito due fotografi, però non mi hanno convinto, ho visto le tue foto su Instagram, ha detto, e soprattutto ho visto, perché avevo fatto una storia, dove avevo messo una decina di recensioni, con la foto degli sposi, alcune recensioni erano anche belle lunghe, perché effettivamente, insomma, c'era un bel po' di testo, lei ha detto, io ho letto quelle recensioni, e mi sono, ho detto, le foto sono belle, le recensioni sono ottime, perché non sentire, ok, quindi, ecco, ieri Sara mi ha mandato un Whatsapp, mi ha detto, Marco, confermiamo, quindi è il top, quindi questo per dire che da Instagram, leggendo le testimonianze, lei ha detto, proviamo a sentire, ecco, quindi penso sia importante, anche perché ho visto che comunque le stories, in questi giorni, io sono arrivato a 800, 1000 visualizzazioni, c'è una roba pazzesca. Bombano, infatti questa è un'opportunità incredibile di comunicare bene il proprio brand, perché comunque le spose stanno guardando, si stanno informando, sono spaventate, ma si stanno informando, e allora non dobbiamo essere assenti, dobbiamo essere presenti, se abbiamo delle difficoltà, perché facciamo fatica a stare dietro ai bambini o cose di questo genere, siamo un po' nel panico, magari ripostiamo anche contenuti vecchi, che tanto le spose non è che se li ricordano, magari non li hanno mai viste, ma anche le mamme, intendo dire, noi lo facciamo stesso anche con Ellen, quando abbiamo dei picchi di lavoro, anche ripostare, va bene, e in questo momento ancora di più. Diciamo che l'unica parte dove sono un po' carente, tra virgolette, è il sito, nel senso, sto inserendo dei matrimoni nuovi, però diciamo che sto puntando molto su Instagram e Facebook, il sito, sì, lo devo prendere in mano e lo devo aggiornare, non è aggiornatissimo, ecco, però insomma, l'idea è nel mese di aprile appunto, siccome comunque saremo dentro tutto il mese, spero di riuscire a ripartire dove il sito è aggiornato, Instagram è aggiornato, Facebook è aggiornato, tutto è aggiornato, insomma, ecco, quindi la mia idea è questa, thanks for Michael.